Non mi crei queste difficoltà, Daniel. Sono in formazione d'attacco. Quelli ci vogliono soltanto abbattere, signori. Non vorrà abbattere un elicottero nel cielo della California in pieno giorno? Con tutto il rispetto, colonnello Daniel. Se lei non ci segue la base aerea di Travis, io la faccio abbattere. Ci può scommettere. Generale, con tutto il rispetto, vado a fare in culo. Sotto la mia responsabilità. Prepari l'armamento.